ciao a tutti si dice ciao buongiorno io non so non so più benvenuti nel nuovo video come vi avevo già anticipato nel video antecedente a questo vi avevo detto che volevo fare una cosa un po particolare e lo faremo su questo motorino scooter scooterino lo scooterino usato che insomma dovrà essere venduto allora il mio amico alberto mi ha chiesto se potevo potevamo insomma lavarglielo renderlo presentabile perché due anni ha detto due anni che fermo forse anche di più ma infatti più che altro è al suo 87 dita di polvere ma per quello noi lo faremo diventare bello così il cliente che lo viene a vedere che lo vuole comprare lo compra di sicuro perché è stato trattato dalla gm detailing monster era di valentino rossi ah no beh però è bello dai la mostra gabrie tu che mi segui sempre tu sei che hai fa la collezione delle monster dai vediamo di fare qualcosina di interessante facciamo un pre wash della innova car rosa tanto per cambiare ma si dai facciamo così qui abbiamo dobbiamo scegliere è che ci segue non può verde azzurro o rosa facciamo rosa perché sarà lo vuole rosa allora facciamo rosa dai pre wash partiamo con questo dalla regia ci dicono che ha un phantom f12 guarda che per rosa fucsia questo ve l'avevo già fatto vedere noi facciamo i seri mettiamo due tappini di prodotto all'interno della m6 mjcc foam gun metto dentro un po di acqua un po rosa ma si perché lo voglio bello rosa bello bel rosa acceso a giusto mi macchio abba chiara che non metto i guanti in realtà li abbiamo finiti non stanno arrivando porca miseria per dire i guantini neri e allora facciamo così usiamo tanto uno scooter e partiamo questo è un profumo di fragola o di fiori provate a sentire anche voi sentite? no mannaggia possono venire qua a sentire esatto, venite alla GM del Tenga a sentire a sniffare i colpi partiamo vai faccio pennellare alla Sara perché lei piace e io intanto faccio un po' di Instagram che è un po' di Friends are nearby, don't need another view Time is not on my mind, but then it's you Oh, I love it when the love comes around And then I remember All things must pass But I'm not gonna wake up, wake up I'm not ready, let me have another day Don't wake up, wake up Keep it steady, cause I'm happy I'm not gonna wake up Don't know less yet Oh, no less yet Oh, no, no less yet Oh, I'm afraid I'll end up nowhere They keep saying I'll be fine But how you know that I'll be there When it feels like I'm lying every time Someone asks how it goes And I save the details That I shouldn't need in something Life goes up and it goes down Friends are nearby, don't need another view Time is not on my mind, but then it's you Oh, I love it when the love comes around And then I remember All things must pass But I'm not gonna wake up, wake up, wake up I'm not ready, let me have another day Don't wake up, wake up Keep it steady, cause I'm happy I'm not gonna wake up No, 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 not yet Oh, no, not yet Oh, no, no, not yet Oh, no, no, not yet Oh, no, no, not yet I'm afraid I'll end up nowhere They keep saying I'll be fine But how you know that I'll be there When it feels like I'm lying every time Someone asks how it goes And I save the details That I shouldn't need in something Sun is shining, but the rain is welcome too Friends are nearby, don't need another view Time is not on my mind, but then it's you Oh, I love it Allora, è tutto rovinato Comunque qui non si può fare niente Ma non possiamo fare niente In realtà è protettivo alle plastiche Adesso gli diamo un po' di protezione alla sella Dopodiché lo riconsegniamo Che rispetto a prima Alla fine più che altro è la polvere È una cosetta così Anche per noi è anche un po' un passatempo In questo caso Più che un lavoro dettagliato Il detailing Intanto è utile anche per Continuare a utilizzare i prodotti E mantenerci in allenamento Anche sulle lavorazioni Quindi è un video molto piccolino Però a parte questo Se avete uno scooter E una moto Come avete già visto in altri video E volete un trattamento particolare Di detailing Sappiate che qua alla GM Facciamo anche le moto Non solo le auto Si può lavorare sia con Questo lo vedremo prossimamente In un prossimo video Che vi mostrerò Su una Su un'Africa Twin Dove tratteremo al grafene La moto Anzi ritratteremo Perché in realtà Cinque anni fa La moto era appena stata comprata Avevo già trattata Con un anno tecnologico Adesso è venuto il momento Di riapplicare il trattamento E stavolta però farò il grafene Di White Diamond Quindi comunque Se avete una moto Avete uno scooter Non volete fare il lavoro voi Volete una protezione un po' particolare Venite qua da noi E insieme E insieme Faremo Un preventivo ad hoc Per la vostra moto E il vostro scooter Soprattutto per la parte anteriore Ci sono i moscerini Che sono l'odio di tutti Adesso ci avviciniamo all'estate E i moscerini Davvero anche sulle auto Sulle moto Danno il loro bel da fare Ma soprattutto Il sangue dei moscerini Essendo acido Rovina il trasparente Quindi Se volete proteggerlo In un certo modo O scegliete il prodotto adatto Oppure venite qua Facciamo un trattamento Come si deve E vi aiuteremo A preservare La moto Per lungo tempo Ciao Grazie Al prossimo video